Signore, lei ha una scorreggita acuta. Che cosa... che cosa avrei io? Una scorreggita acuta? Della peggior specie. Insomma, caga stantuffo. Come una betoniera. Come una betoniera e non c'è un rimedio per questa malattia. No, l'unica soluzione è quella di mettere un tappo nel culo. L'unico problema è che quando scorreggerà pesante, il tappo farà l'effetto champagne e le... Basta, basta! Altrimenti potrei andare in giro con un pollice nel culo. Sì, ma che schifo! Aiuto, un attacco di scorreggite! Vada subito in bagno. Non vorrà mica immerdarmi lo studio. Il video è stato censurato per ovvi motivi. Attento agli schizzi. Cazzo, però io te l'avevo detto. Ora vatti a lavare o verrai contagiato dalla scorreggite. Dovare! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.